Sì, è un'occasione molto bella, è davvero una sorta di festa perché così l'associazione Friends of Florence naturalmente qui a Firenze è conosciutissima e ve ne merita il loro impegno nei musei piccoli e grandi è davvero da additare come esempio. In particolare noi celebriamo con questa targa il loro impegno relativo alla manutenzione continua nel tempo della scultura della Galleria, della scultura Michelangelesca e non solo di quella ed è un impegno straordinario perché non è come dire sotto la luce dei riflettori tutti i giorni, questa è la cosa importante da sottolineare, è un impegno che continua nel tempo in maniera discreta, ecco perché è giusto sottolinearne l'importanza con una memoria che resti nel tempo cioè si va al di là di quello che è il concetto solito del finanziamento eclatante, dell'evento che porta subito un ritorno d'immagine immediato, questo è il contributo che ogni museo vorrebbe avere cioè un affiancamento che procede nel tempo.